30 candeline quelle spente dal trofeo Marcello Campobasso, il mondialito della vela giovanile organizzato dallo storico Circolo Savoia di Napoli. Tre giorni in mare fino all'epifania per la manifestazione che è partita il 4 gennaio con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera. Ogni anno sotto la bandiera dello sport riuniamo ragazzi da tutto il mondo, afferma il presidente del Circolo Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta. E sentiamo anche il presidente della delegazione campana della Federazione Italiana Vila, Francesco Loschiavo. Questa trentesima edizione è particolare per noi, prima perché 30 anni comincia ad essere una manifestazione adulta, diciamo grande. È una manifestazione che inaugura tra l'altro questa tappa di avvicinamento al Napoli capitale dello sport del 2026. Come si fa a non essere a Napoli nei giorni dell'ipefenia? Questo significa attenzione al nostro sport, alla nostra capacità organizzativa e in qualche modo ci dà quella carica giusta per affrontare un anno impegnativo. Giorgio Budillon, direttore Dipartimento Scienze e Tecnologie dell'Università Partenope di Napoli, presente all'evento. L'Ateneo è da anni attivo nella ricerca relativa all'attività dei numerosi atleti del Circolo Savoia. Sì, è anche un modo per noi di applicare le nostre conoscenze, le nostre attività di ricerca al mondo reale e fornire questa piacevolissima collaborazione col Circolo Savoia, ormai consolidata da parecchi anni. Presenti anche le vele d'epoca per la trentesima edizione del Trofeo Campobasso, come dice il vicepresidente del Circolo Savoia, Enrico Milano. L'anno scorso fu un grande successo insieme a Riva e quest'anno sarà una tappa molto importante perché si allungherà di un giorno.